Nel cuore della settimana della sostenibilità, questo è il primo evento promosso da Confartigianato Imprese Padova all'interno del grande cartellone di Confartigianato nazionale. L'obiettivo è quello di comunicare il valore della sostenibilità, provare a lanciare delle buone pratiche attraverso degli esempi, andare anche a raccontare quali sono i vantaggi che possono avere le imprese ma anche le persone, la società civile, nel momento in cui aderiscono e fanno proprie le pratiche e i valori legati alla sostenibilità. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione con noi, Emilio Casalini che saluto e ringrazio, eccolo qua. Buongiorno a tutti, ciao, buonasera. Allora, giornalista Rai, premio Ilaria Alpi, sei un autore, sei uno scrittore, insomma una lunga carriera professionale diciamo che nell'ultimo capitolo professionale della tua vita ti sei occupato di bellezza bellezza raccontata, bellezza generata attraverso l'azione delle persone ed è un po' questo che oggi vogliamo raccontare come la sostenibilità può generare bellezza e che cosa significa. Tu ce lo stai facendo vedere nello specifico ultimamente attraverso un programma televisivo che è andato in onda in Rai dal titolo Opera Verde ci sono tre puntate e l'ultima puntata ci porta proprio nel territorio padovano se non sbaglio tu sei padovano d'origine quindi hai giocato in casa hai giocato in casa. Un programma che va a raccontare come Etifor che è uno spin off dell'Università di Padova con questo braccio operativo che si chiama Wow è riuscito a mettere a terra davvero il concetto di sostenibilità vuoi introdurci brevemente di che cosa si tratta e perché c'è bellezza dentro questo progetto? Allora credo che riguardi davvero tutti intanto avendo una visione sistemica del mettiamoci anche una cornice per capire perché tutti noi siamo coinvolti in questi discorsi perché mentre per secoli siamo andati avanti a profilazioni molto verticali molto settoriali ci hanno anche insegnato ci hanno spinto a pensare all'iper specializzazione che va bene ma non è sufficiente noi stiamo dentro a un mosaico a un sistema molto complesso sempre più complesso di cui non vogliamo occuparci perché ci piace stare nella nostra nicchia e invece è importantissimo che capiamo quanto le nostre azioni intacchino o in positivo o in negativo tutto il resto del sistema il che vuol dire che dentro un approccio sistemico io mi devo occupare degli altri anche se sono la persona più egoista del mondo perché ne va del mio presente e del mio futuro e in grande scala è il discorso della sostenibilità del nostro pianeta in piccola scala è anche semplicemente il business di ogni giorno dell'attività che facciamo e quindi questa l'approccio sistemico è intanto la cornice di pensiero che dobbiamo cambiare piccolo altra parentesi l'abbiamo davanti tutti il campanilismo che con che caratterizza le categorie professionali i comuni dove tra un comune di pochi abitanti e quello vicino ci si fa la guerra quando magari invece un turista vuole semplicemente andare su un territorio e via di seguito questo per dire che tra professionisti tra società civile tra terzo settore mondo privato e mondo pubblico deve partire una sinergia ed è esattamente quella che abbiamo mostrato dentro il progetto del programma Opera Verde che mostra come le sinergie di progettazione forestale aiutino a risolvere o quantomeno a trovare delle soluzioni ai grandi problemi poi andremo nello specifico della della puntata che che abbiamo che vengono posti dal cambiamento climatico ma come questo eh porti delle soluzioni grazie all'azione coordinata di tanti soggetti il pubblico il privato eh anche il singolo o la grande azienda dentro un sistema che produce nuovo benessere per tutti gli attori dentro a questa a questa filiera allora ehm si parte un po' dal presupposto no che le persone sono chiamate a fare delle scelte tu racconti all'interno di Opera Verde delle scelte che fanno dei privati che fanno delle aziende che possono fare le aziende artigiane queste scelte possono cambiare le cose il processo è lungo e anche questo un po' si evince non svegliamo nulla ma sono processi lunghi che però portano dei frutti eh che potrebbero davvero cambiare il corso delle cose perché poi gli effetti del cambiamento climatico li stiamo toccando con mano li stanno toccando le stesse aziende artigiane oggi eh lo vediamo insomma fuori dalle nostre dalle nostre finestre allora con Etifor eh voi state lavorando e con Etifor ha lavorato anche con Fartigianato Imprese eh Padova eh nel eh sviluppare un progetto che si chiama eh Green Beauty ma eh volevo fare un passo indietro su ehm sul Bosco Limite perché tu ci possa raccontare eh la sostenibilità in che modo è riuscita nell'esempio di Bosco Limite a generare questa bellezza che tu racconti allora il concetto è molto semplice intanto siamo nel Veneto c'è un problema come in tutte le regioni italiane di falde acquifere che si svuotano per cui quando noi adesso abbiamo un problema di alluvioni poi d'estate abbiamo un problema di siccità perché l'acqua è tanta troppa nel momento sbagliato e poi d'estate non ne abbiamo quindi noi abbiamo le falde che si svuotano e ogni anno saranno sempre meno eh cariche eh cosa hanno fatto? Ha pensato una cosa semplicissima delle aree di infiltrazione forestale questo è il progetto di Bosco Limite eh nella provincia di Padova che sono praticamente delle canalette dentro un prendiamo un campo di mais due ettari coltivati a mais ci creiamo un bosco e dentro questo bosco creiamo vengono scavate delle canalette alte profonde un metro dove l'acqua quando ce n'è tanta come adesso viene deviata dentro queste canalette che però sono chiuse quindi non è che vadano oltre arrivano lì si fermano e l'acqua scende è un luogo perfetto per questo perché c'è una una strato di ghiaia quindi scende non è se c'era argilla non andava da nessuna parte è ripermeabile invece scende e quei punti è fatta pensata per ricaricare le falde acquifere i dati due ettari di bosco due milioni barra tre milioni di metri cubi d'acqua che poi quando è estate serve per le industrie per le case e per i campi sono fondamentali quindi il principio è semplicissimo quindi ecco la progettazione per risolvere un problema eh che riguarda tutti noi di sostenibilità ambientale che ci impatta sia che siamo degli imprenditori che siamo dei semplici cittadini sia che dobbiamo nutrirci di cibo che poi magari se non c'è l'acqua costa tantissimi soldi per cui dopo diventa inaccessibile pure quello e quindi abbiamo questo processo qui però ha un costo ed ecco dove intervengono anche la visione la scelta allora tu sei un imprenditore puoi fare semplicemente un ragionamento così perché conviene parlare di sostenibilità e fai compri qualche alberello da qualche parte fai l'investimento magari eh il cosiddetto greenwashing no eh ti lavi la coscienza facendo comprando qualche alberello da qualche parte è risolto invece qui c'è una progettazione ecco dove entra etifor che ha una progetta che è uno spin off come dicevi tu della dell'università di padova che è una società una società di progettazione ambientale cosa fanno portano a una sinergia tra gli attori servono degli investimenti serve chi il contadino che dà il campo e serve un finanziamento che viene fatto dagli attori che agiscono a chi per esempio veneto cioè l'acqua la società dell'acqua va a ehm ovviamente dare un contributo ma c'è anche in questo caso un imprenditore in questo caso era pasta sgambaro che è vicino a questo territorio che dice ok io investo lì dentro ho tutto l'interesse a sostenere questo perché ho l'acqua nei campi col grano che poi a me serve ho un territorio che non viene strangolato perché sennò alla fine anche gli stessi utenti che compro le due cose non ci sono e ho un'immagine anche e questo è un altro elemento estremamente interessante poi le nuove direttive europee sono andando nella direzione che non basta più fingersi degli ambientalisti o dei sostenitori di ambientalità bisogna esserlo davvero e dimostrarlo e io sono un imprenditore di quel territorio che sta lavorando perché quel territorio sia sostenibile perché quel pezzo di territorio funzioni meglio rispetto ai problemi che ci sono quindi c'è una molteplicità di eh visioni c'è una componente di progettualità quindi fatta bene pensata per essere operativa e quindi eh poi nel bosco tra parentesi c'è anche una nota molto bella perché in quel bosco poi si sono generate mille altre attività tra cui un asilo un asilo nel bosco che significa nuova imprenditoria giovanile che non deve andarsene a cercare lavoro a Londra a fare il cameriere con tutto rispetto però insomma magari hai delle altre ambizioni e non sei costretto a andare via e ma scegli quello che ti piace quindi una nuova pedagogia che ha un nuovo approccio anche con l'ambiente con la natura bambini che crescono a contatto con la natura un luogo dove gli abitanti vanno trovano refrigerio trovano biodiversità le api è un mondo che non esisteva che aiuta tutti con la principale ricordiamo la sostenibilità delle acque delle acque che vengono ricaricate ed è figlia di una progettazione sostenuta dagli imprenditori quella reputazione non è pubblicità non è semplice cioè la pubblicità è una cosa eh il mio prodotto è buono la mia pasta è buona le mie biciclette sono buone il mio sughetto è buono quella è pubblicità la reputazione un'altra cosa è dire io ho una una reputazione perché ho valore e quindi il fatto che ed è la cosa più difficile da creare perché la pubblicità la puoi fare per creare una reputazione serve tempo e servono e non devi ingannare nessuno perché oggi è facilissimo essere smascherati se ti stai costruendo una reputazione falsa ecco io mi costruisco una reputazione e questo ovviamente impatta anche nel mio business e questo riguarda la reputazione riguarda il grandissimo industriale e il piccolissimo artigiano la reputazione è qualcosa di straordinario non è che lo inventiamo noi adesso la reputazione è quello che ti fidi che quella persona ti fidi che ti vai a tagliare i capelli a fare le unghie o vai a comprare un'automobile ti fidi di quella di quel produttore di quell'industriale di quel artigiano ti fidi perché vai di dentro ha una reputazione ottima anche perché giustamente emilio come dici tu non è soltanto l'alberello che pianti è la catena del valore che vai a creare ogni gesto genera un valore che poi si moltiplica come tu raccontavi queste attività imprenditoriali che in realtà emergono da delle scelte precise che hanno fatto anche degli imprenditori ecco mi viene da citare il progetto green beauty che ha coinvolto proprio le imprese artigiane perché nello specifico le imprese artigiane con frattigianato imprese padova si è un po messo a nudo e attraverso etifor con cui tu hai collaborato hanno voluto misurare l'impatto ambientale delle loro attività ne è uscito un numero con questo numero loro avevano due possibilità quello di accettare la realtà oppure di provare anche a modificarla hanno scelto di modificarla e attraverso l'aiuto di etifor e poi di studio frassona hanno capito che si poteva modificare attraverso diverse scelte quindi appunto diversificando hanno provato a mitigare il loro impatto hanno contribuito a riforestare un bosco tu con bosco limite sei a carminiano loro hanno piantumato a fontaniva quindi siamo sempre comunque in alta padovana un'altra area a cui è stato dato più ossigeno ma dietro c'è tutto il concetto di reputazione che tu vai a raccontare perché poi chi ha scelto di aderire a questo che è un protocollo potrà anche diffondere e gestire questa sua nuova reputazione attraverso i propri canali social attraverso i propri clienti cioè quello la scelta l'adesione al protocollo è qualcosa che è misurabile dimostrabile è qualcosa che cambia la loro identità possiamo immaginare che ci sia anche questo come vantaggio per le imprese che scelgono la strada della sostenibilità eh sì ed è una una delle cose in cui bisogna essere un pochino credo che nel mondo del del business chi anticipa vince no cioè se stai in ritardo sei lì a rincorrere eh perdi allora eh il mondo della sostenibilità è passato da essere una scelta etica di chi aveva era buono cioè era perché aveva voleva investire nell'ambiente perché pensava che fosse giusto ha una scelta che sta diventando obbligatoria giustamente non è più una possibilità quindi per esempio il bilancio di sostenibilità oggi riguarda un certo tipo di aziende con una certa stazza e un certo bilancio prima o poi piano piano arriverà a tutti ed è giusto così perché dovrà essere ognuno di noi dovrà avere un suo personale bilancio di sostenibilità anche delle sue proprie attività io tra parentesi io non voglio pagare se non per esempio se non consumo se non produco rifiuti no è una cosa una follia in Italia che io pago a metri quadri cioè una cosa demenziale ancora che noi paghiamo a metri quadri quando io non produco rifiuti o addirittura produco rifiuti ottimi perché possono essere riciclati ognuno di noi dovrà pagare a seconda di quanto impatta sull'ambiente di tutti quindi se io faccio un certo tipo di attività dovrò pagare per quella e perché impatta su tutti noi allora nel momento in cui il bilancio di sostenibilità riguarda anche un piccolissimo artigiano ecco che avere incominciato fin da prima a intraprendere delle iniziative che riguardano la tua filiera produttiva e quindi questo su già molto siamo andati moltissimi salti già avanti no quindi come gli scarti eccetera eccetera due la 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 scelta di creare di fare cioè le scelte che hanno un impatto come tu dicevi misurabile dove sulla società non solo sulla mia azienda quindi la scelta di impatto ambientale e l'impatto sociale oltre che l'impatto economico che sono le tre grandi macro aree di impatto economico ambientale sociale quindi nel momento in cui noi andiamo a fare una scelta di dove investire di cosa fare del nostro tempo del nostro denaro come grandi imprenditori come piccoli artigiani anche come singoli cittadini noi andiamo a misurare ecco la nostra il nostro impatto quello che è successo lì a bosco limite è che si è creata anche un esempio di come investire in ambiente creando qualcosa che funziona davvero la differenza tra prende il trapiantare un alberello in amazzonia e una scelta di questo tipo è che io non mi accontento di piantare un albero voglio che quell'albero a quell'albero abbia un impatto voglio che sia funzionale perché se metto solo un alberello da qualche parte magari male non fa ma magari non è cosiddetto che faccia così tanto bene mentre qui andiamo a misurare gli impatti di boschi di aree verdi di della filiera anche della nostra produzione cioè in un'altra puntata abbiamo raccontato come quelli delle acque delle acque minerali di l'erico stessero chiedendo a tutti i fornitori la sostenibilità cioè banalmente che che camion usi il mio fornitore che camion usa un camion inquinante un camion non inquinante un mezzo diciamo no e eccetera eccetera quando in questo modo stiamo cominciando a cambiare le cose perché non mi basta più che io faccio questo io pretendo anche agli altri e se io sono un fornitore e continuo avere un camion mezzi inquinanti a certo punto non lavoro più perché tutti gli altri mi chiederanno questa disponibilità allora ecco che è una molteplicità di fattori che si inseriscono una mentalità per il proprio prodotto cioè per il proprio lavoro di sostenibilità una filiera un'attenzione alla richiesta a tutta la filiera per cui tu non mi puoi arrivare con un euro uno due con un anno che ancora magari va in qualche modo e e poi per azioni che abbiano una valutazione d'impatto e oggi la nuova direttiva europea portano a questo non ti puoi più dire da solo che sei bravo devi essere certificato perché non ci fidiamo più di quelli che se lo raccontano ed è giusto così finalmente perché troppe truffe sono venute in questi anni in questa direzione e quindi c'è una valutazione d'impatto e quindi anche la progettazione dove vado a investire io voglio avere la certificazione che quella cosa serve davvero stiamo parlando di vantaggi nello specifico eh quando ho nominato il progetto green beauty progetto green beauty vi hanno aderito una specifica categoria no di imprese artigiane che sono i tatuatori parrucchieri gli estetisti quindi quelli legati alla bellezza no quindi torniamo in qualche modo alle origini torniamo a parlare di bellezza ma possiamo pensare che ci sia bellezza anche in un'azione sostenibile per i metallmeccanici per i carrozzieri perché forse con con il mondo del beauty è più semplice ci aiuti a capire come ci arriviamo lì se magari un artigiano che ci sta ascoltando dice meglio da che parte devo cominciare allora io parto da delle cose che ho visto io quando quando vedo degli dei metallmeccanici che avevano fatto un buyer come si chiama work is buy out quindi i lavoratori che avevano preso la loro piccola piccola anche tanto piccola azienda la loro impresa di metallurgica perché facevano pontini d'acciaio se la sono ricomprata e hanno detto la cosa più importante è che noi lavoriamo in un posto brutto e adesso noi vogliamo renderlo bello perché io devo andare solo nella sporcizza e questo è l'unico destino no è un'impostazione ma a quel punto hanno detto ma perché deve essere bello solo per noi quindi buttiamo giù questi muri e creiamo lì fuori un giardino che serve a noi serve alla cittadinanza mettiamo luoghi per bambini e trasformiamo i luoghi in posti dove possiamo tutti noi stare bene mi viene da pensare alla falegnameria di maurizio longin che che in provincia di padova a è una cosa è un salotto è un salotto la sua falegnameria e quindi tu vedi è pulita ci sono frasi che ispirano alla filosofia alla bellezza e tu lavori meglio ma anche tu cliente ti trovi meglio è una cosa da crescere in modo è un modo diverso di crescere quindi intanto è un approccio diverso perché dobbiamo stare male per forza e mi ricordo i meccanici sempre con questa roba un po le officine sporche poi arrivi in certi posti che sono pulite dicono scusa ma non era per forza sporco come fai a lavorare tu fa semplice pulisco cioè sto in un posto bello e lavoro meglio è pulito sto bene c'è luce c'è aria pulita e quindi c'è un cambiamento sulla sostenibilità probabilmente anche di attenzione a piccole pratiche per vivere meglio quindi la bellezza di un posto dove vivi che serve anche a chi passa davanti no cioè cominciare noi abbiamo un grosso problema in italia che lo spazio di tutti di tutti vuol dire di nessuno l'esempio pratico sono le sigarette che chiunque butta per terra chiunque fumatore butta per terra esclusi pochi casi purtroppo è però che noi cittadini accettiamo che vengano buttate per terra perché prova a buttarla in svizzera una sigaretta per terra ma ti corcano di botte proprio battiti poi e poi ti picchiano e poi ti fanno arrestare giustamente le sei scemo perché butti una sigaretta per terra ma non è di nessuno un cavolo di tutti noi hai offeso tutti noi moltiplicato l'offesa fatelo a casa tua sul tuo tappeto se vuoi ma invece noi normalissimo distruggere qualsiasi cosa rovinare perché nessuno ci sono un po di cose che in italia dobbiamo risistemare come cliché mentali no quello del rispetto quello della cura dei luoghi quello della narrazione della nostra bellezza che è quello che racconto con i programmi cioè quando le persone si prendono cura di qualcosa di bello e diventa un modo diverso di vivere è un approccio per cui fai bene a te ma fai bene agli altri quando in alto adige un giorno c'era un anziano che stava tagliando il pezzetto di erba tra lo steccato e l'asfalto e ci siamo fermati a chiedergli perché lo stesse facendo perché quello che guidava la macchina ha riconosciuto che non era il proprietario del campo ma anzi avevano degli screzi e quindi non capivo perché stesse sistemando quel pezzetto di campo di 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 erba che non c'era di che non era sua e lui disse perché il proprietario si è fatto male alla schiena bloccata e dice e quindi perché lo fai tu invece ma pensa se uno viene qua e vede un pezzetto messo in disordine cioè wow ecco però lui in questo modo con questa cura dei dettagli l'alto adige non ha disoccupazione per tra tanti motivi ma anche di questo cioè non è solo che hanno l'età hanno le tassazione diversa è anche una cura del nostro territorio che porta benessere quindi da una grande industria da un'impresa metalmeccanica una fallegnameria un'officina non solo in un negozio in un istituto di bellezza dove chiaramente tutto è perfetto ma anche in luoghi noi possiamo cambiare anche l'approccio e guadagnarci tutti e se ci pensi c'è anche un valore di promozione del territorio in tutto questo no anche a livello turistico possiamo pensare che l'artigianato possa arrivare fino a qui assolutamente guarda c'è una puntata bellissima che abbiamo raccontato l'anno scorso di un forno a san leo vicino a rimini un piccolo borgo medievale in cima a una rocca dove l'ultimo l'unico forno il panificio stava chiudendo e gli abitanti hanno detto no noi non possiamo perdere questo hanno creato una cooperativa di comunità e hanno comprato il forno quindi i cittadini la comunità del paese ha ricomprato il forno e per vari motivi uno per avere il profumo del 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 pane appena cotto perché certo puoi andarlo a comprare col panificio al centro commerciale a 30 minuti puoi anche andare cioè non è un problema è che muore di fame ma quel sapore è qualcosa di diverso quel pane fresco che però serve anche a rifornire il ristorante il bar il b&b quando hai la mattina la colazione col pane appena cotto a pochi metri fatto bene con materie prime buone e non solo sul risparmio questo crea turismo quindi la presenza di quel forno gestito anche da una cooperativa di comunità dove i ragazzi vengono pagati attenzione no quindi sono nuove persone che hanno trovato un lavoro che possono lavorare magari con ritmi diversi perché magari puoi fare il panettiere lavorano di giorno attenzione non devono non è scritto a nessuna parte che per forza il panificio deve lavorare tutta la notte perdere anche la possibilità di avere una vita di famiglia loro lavorano di giorno e quindi tu hai il pane hai un luogo dove trovarti hai nuove vite magari puoi farlo due tre giorni e poi lo ti alterni con un altro e fai altre cose e poi a un luogo dove stare bene questo crea turismo ma crea anche benessere per quelli che vivono e noi sappiamo che nei luoghi nelle città o neanche in questi piccoli paesi togliere luoghi di aggregazione significa solitudine perché se tu sei da solo c'è l'innesco con la depressione la depressione è la prima strumento di innesco di tutte le malattie neurodegenerative che oggi hanno superato in australia l'altro giorno uscito reporto il numero di morti rispetto all'infarto ok le malattie neurodegenerative alzheimer parkinson demenza senile stanno uccidendo la nostra società e uno dei principali inneschi è la solitudine la depressione quindi guarda quanti impatti ha di sostenibilità riaprire un forno e avere una cosa un artigiano del del pane significa economia significa turismo significa nuovi lavori ma significa anche benessere salute e risparmio economico di uno stato che se investe solo nella cura quando stai male anche togliere risorse dall'istruzione da altre cose noi siamo consapevoli comunque che sia un processo lento sono scelte ma sono anche processi lenti no quindi bisogna in qualche modo andare a raccontare come bisogna avere un po di coraggio nel intraprendere la strada della sostenibilità chi lavora quotidianamente ha dei conti da far quadrare potrebbe dire che la sostenibilità è un costo all'apparenza si è un costo la sostenibilità eh ci aiuti a capire poi come questo corso in realtà si riesca ad ammortizzare guarda intanto ehm parte che ci sono per fortuna adesso delle normative che aiutano chi fa investimenti in questa direzione quindi intanto c'è una sostenibilità mhm pratica che viene sostenuto da da investimenti ma poi io penso davvero eh di quello che torniamo a quello che dicevamo prima eh se la pubblicità è l'anima l'anima del commercio chiunque ci sta ascoltando sa che ehm qualsiasi sia la 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 tipologia di professione allora una qualità una parte di questo sarà sicuramente data dal prodotto dalla qualità del prodotto eh l'altra è proprio anche dalla comunicazione ritorniamo al discorso della reputazione e del perché è importante fare determinate scelte prima di altri oggi la pubblicità di un prodotto io posso dire che quella pasta no quel quelli spaghetti oppure un assisato quel caffè è più buono dell'altro io posso dirlo è certo no quindi però anche l'altro dirà che è più buono di tutti quell'altro dirà che buona che questa pasta che buona che questa macchina che buono che quanto bravo è quell'artigiano che lavora quel quel palegname quel pizzaiolo quel in quel mulino eccetera sono il migliore pensiamo a tutta la trasformazione il mondo della trasformazione dal casaro all'olio bene cos'è io vado dentro una competizione che è molto forte e dove io ci occupiamo di comunicazione la comunicazione su quella stretta perché tutti diranno sempre la stessa cosa il mio prodotto è più buono ok o è più bello se fai un prodotto di non so di di una porta ok dov'è che ci possiamo differenziare oggi su questa sul su quanto sulla sostenibilità perché la reputazione di cui andiamo a tingere è una reputazione connessa con la comunità questo cambia cioè è un click mentale e nel momento in cui so che tu sei una persona che non se ne frega solo del proprio interesse ma ha un interesse anche in quello che lo circonda anche nella comunità in un asilo fino a un anziano quindi tutto il filiera della vita in quel territorio che sia ci sia un posto per giocare ci sia un posto dove vivere meglio io so che tu ti stai importando anche degli altri che ti interessa che hai cura anche della tua comunità questo mi connette a te è quasi banale quello che sto dicendo è sicuramente banale però questa connessione ha già creato una una vicinanza no quanto viene speso nel marketing per creare l'engagement no la connessione la l'aggancio con quel col cliente perfetto io lo vado a fare in una maniera molto ma molto più profonda vado ad ancorare il mio ingaggio con quelle potenziale cliente nella struttura più della fiducia perché se io sono davvero uno che si sta occupando degli altri quindi questo imprenditore questo artigiano si sta occupando dei miei figli caspita ecco che comincia a diventa cambiare anche il processo di marketing ok dimmi che hai fatto delle sedie belle hai fatto una bellissima casa va benissimo e degli interni stupendi degli arredamenti meravigliosi ma quegli arredamenti li stai facendo anche occupandoti del mio futuro del mio presente il futuro dei miei figli io sono molto più vicino a te di quanto lo sia precedentemente quello che tu stai disegnando attraverso i tuoi racconti è una sorta di ritorno ad un'armonia cioè anzi tu descrivi un'armonia possibile tra l'uomo e la natura quali sono gli ostacoli che oggi noi troviamo che ci impediscono di vedere questo noi siamo ossessionati io per primo tutti noi ossessionati dal nostro dal nostro ombelico dal nostro dal nostro dal nostro presente dalla da quello che succede oggi domani e ovviamente quello che sta succedendo nella comunicazione i social eccetera è tutto veloce si brucia cioè pensa solo al fatto delle stories no che non hanno più dopo 24 ore non esistono più e uno il quanto ci dedica per qualcosa che è evanescente eppure quanti sono coinvolti ascoltano quella quel meccanismo quindi è tutto estremamente veloce tutto estremamente concentrato su ore adesso che è esattamente l'opposto della sostenibilità ambientale pensate che nella non so quando ho fatto un servizio nella val di fassa dove c'hanno una foresta la foresta pensa che la comunità si chiama magnifica la magnifica comunità della val di fassa e il loro statuto è stato fatto nel nell'anno 1111 1111 oltre un millennio di comunità questi quando andiamo agli alberi li hanno piantati due generazioni prima tre generazioni prima cioè per avere gli alberi tu non li vedi nemmeno tuo figlio forse il nipote ma molto probabilmente il nipote e il pronipote è chiaro che sono due meccanismi completi due 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 strumenti completamente diversi ecco che la noi quindi ecco perché non sentiamo la sostenibilità abbiamo un grosso problema perché oggi chi se ne frega io rubo quello che posso perché vivo adesso e sfrutto il possibile gli altri chi se ne frega morite tutti tanto a me non mi frega niente tanto da un po salò morto chi se ne frega sarà caldo e che mi mi preoccupa io invece penso che quanta soddisfazione questo atteggiamento va benissimo è libero libero di farlo ma quanto male vivi così quanto non riesce a respirare nemmeno calmati respira c'è anche una grandissima soddisfazione del vedere crescere un bosco i signori che hanno sono bosco limite sono lì hanno cambiato la loro vita perché hanno un bosco intorno stanno meglio vivono meglio sono più sereni allora non voglio fare facile demagogia ma uscire un pochino da quella senza essere dei filosofi che vivono in maniera strata è uguale etico e utile non sono mai stati così vicini come in questa epoca per secoli o eri buono ed eri povero morto di fame perché o eri ricco e comunque non e non avevi scrupoli perché questo era fondamentalmente un business a grandi livelli oggi no al contrario più sei etico più hai una sensibilità più anche il mondo del business dal micro business a quello più grande vengono verso di te oggi è un'epoca in cui devi essere anche intelligente a cambiare perché ti conviene ti conviene perché sei dentro una comunità connessa anche perché è una comunità eh che sta veramente cambiando no ce lo dice l'Europa possiamo immaginiamo anche la la il percorso il cammino della bioedilizia ad esempio no tutto il comparto dell'edilizia è completamente cambiato e adesso ce lo chiede l'Europa ma come dici tu ce lo chiede anche la sensibilità delle persone siamo molto eh attenti e iniziamo anche a essere molto più attenti a quello che compriamo al chilometro zero cioè questa cosa sta già entrando un po' nella cultura delle persone forse lo scalino da fare è per gli imprenditori gli imprenditori artigiani è comprendere come dietro la sostenibilità ci sia un vero e proprio business che può essere aggredito con delle azioni concrete ed è quello scalino che ci permette di fare l'ultimo miglio cioè stiamo cambiati davvero tanto penso che quando ero piccolo io in spiaggia passavano gli aeroplani buttavano milioni di volantini con l'aeroplano sulla spiaggia oggi quantomeno gli cioè non è nemmeno concepibile una cosa del genere quindi non è vero cioè sono cambiate tantissime cose per fortuna la nostra sensibilità è sempre più diffusa e anche qualche anno fa quando io ho proprio appena vedo uno buttare una sigaretta per terra arrivo all'inizio arrivavo con molta aggressività oggi arrivo con un sorriso invece perché capito è molto più impattante lo guardo dai ma per favore ma proprio bisogna così e la reazione mentre qualche anno insomma rischiavi grosso oggi ti guardo e dicono la maggior parte dice ah scusa hai ragione e vedi persone che anche che raccolgono la sigaretta per terra che hanno spento con la scarpa la raccolgono o se la mettono o vanno a cercare il cestino è cambiata la mentalità questo è un modo un mondo che ha tantissimi problemi ma è veramente migliorato sono cambiata la cultura pur avendo ancora molto a fare cambiata la cultura nei rapporti tra uomo e donna abbiamo ancora gli scenari con solo uomini ma per fortuna abbiamo cominciato a cambiare su questo sull'approccio sull'approccio che il maschio ha verso la figura femminile abbiamo cambiato il rapporto verso anche quello che era un razzismo culturale verso altre razze verso persone di altre razze abbiamo cambiato il razzismo verso il mondo verso il pianeta verso l'ambiente verso la natura verso gli animali e verso la natura perché perché abbiamo incominciato a capire che facciamo parte di un intero ecosistema estremamente complesso dove noi più siamo ancorati agli altri più facile più facile anche per noi stare meglio e avere un business reale e tornerei un po sul concetto di sistema perché tu raccontando tutta l'operazione di bosco limite con etifor che poi etifor è lo stesso spin off che ha lavorato con con partigianato imprese padova spieghi come natura d'economia possano coesistere tranquillamente però c'è bisogno di questo sistema che si deve venire a creare perché i soggetti in gioco sono tanti ci sono i comuni di amministrazione pubblica ci sono i consorsi ci sono gli imprenditori ci sono i privati che possono mettere i fondi ma c'è anche ci sono le competenze che arrivano da ad esempio soggetti come etifor che che devono fare da collante no con le associazioni di categoria con l'impresa quanto importante è che che questo sistema diventi come dire una cosa data che non sia solo un esempio ma che diventi proprio vero e proprio sistema questo modo di lavorare insieme di ragionare di costruire insieme allora penso che ci sia un momento in cui la con abbiamo capito che la competenza è fondamentale ed ecco perché su questi argomenti è giusto affidarsi a chi le cose riconosce e le direttive europee vanno esattamente in questa direzione è quello che dicevo prima non puoi più dire che sei bravo tu deve dirlo qualcuno un ente terzo quanto sei bravo perché ti controlla quindi primo livello non non è che non freghi più nessuno ma sarà più difficile fregare gli altri dicendo per esempio il nuovo direttivo non puoi usare quello che è obbligatorio per legge e vantartene non puoi più farlo perché c'è ah faccio questo no lo dice la legge non puoi più vantarti di questo quindi è diverso è cambiato l'atteggiamento quindi abbiamo bisogno di altri abbiamo bisogno di competenze e io stesso quando facevo le prime presentazioni avevo dei pdf mi dice meglio è bello tutto quello che dici ma perché un pdf così schifoso un powerpoint così schifoso si vede che l'hai fatto tu ma perché non fa un professionista perché è giusto affidarsi ai professionisti no perché è giusto che avere delle competenze quindi è giusto entrare in connessione e quelle professioni quel mondo dell'ambiente il mondo della comunicazione il mondo della anche anche di uno è un nuovo economia questa di nuovi lavori noi siamo in grado di creare nuovi lavori c'era una ragazza che io non so neanche come inquadrarle alcuni lavori nel paese prima dove hanno rifatto il poi il panificio no il forno a san leo una ragazza è tornata lasciando un grande magazzino dove lavorava apprezzo la sua bottega dove lavora con i colori e i tessuti è una bottega di magia ma questa è nuova economia perché un nuovo attrattore per i turisti che possono fare esperienze in un luogo magico ed è un lavoro per lei si creano nuove economie dentro un meccanismo di sostenibilità che non vuol dire solo che è tutela ambientale la sostenibilità che deve funzionare ecco dove è cambiato il meccanismo non è solo una protezione sterile quasi irrazionale rigida radicale è un sistema che deve sostenersi si sostiene a livello economico perché ci deve essere un'economia reale che ci fa vivere perché se no abbiamo risparmiato l'ambiente ma siamo spariti noi beh grazie non è una grande grande intuizione ma deve anche vivere c'è economia buona e questo va in questa direzione perché il mercato va in quella direzione l'abbiamo visto col biologico chi ha investito nel biologico vent'anni fa erano dei pazzi sembravano oggi ovviamente c'è un mercato che è gigantesco rispetto al biologico e ha permesso di abbassare i prezzi e quindi di avere a permettere a tanti persone normali di avvicinarsi a quel segmento lì quindi magari mangi di meno però mangi meglio e hai una migliore salute e spendi meno dal medico dallo psicanalista quindi sono un modo di vivere un po più sano dove le imprese sono le imprese artigiane da grandi a qualsiasi taglia siano sono parte di questo e allora essere guardarsi ogni tanto allo specchio dire ma io cosa sto facendo qua cioè quando è l'ultima volta che abbiamo guardato allo specchio e dire ma io che ci faccio qui che era il titolo di di un libro di bruce cetwin bene io che ci faccio qui voglio stare bene qui io sono una parte importante io sto dando valore a me stesso nel momento in cui mi connetto con gli altri perché altrimenti chiudo quello specchio e vado avanti come come una talpa con gli occhi chiusi mentre guardo allo specchio e voglio essere felice di essere parte di un sistema e mi permetto di aggiungere che un altro tassello potrebbe essere la creazione della rete cioè darsi la mano l'uno con l'altra e sempre tornando al popolo artigiano le comunità artigiane le comunità di acconciatori che fanno il protocollo piuttosto che le comunità di tutto il settore biomedicale perché allora sì che facciamo uno scalino in più non è soltanto il singolo ma il singolo che crea la comunità del valore e ne abbiamo bisogno è talmente interessante quando devi perdere devi capire che esci dal tuo piccolo dal tuo piccolo guscetto e hai paura perché sei piccolo infatti i grandi imprenditori fanno rete a tutti i livelli non hanno paura invece noi usciamo da questo piccolo guscetto connettiamoci con gli altri dobbiamo rinunciare a qualcosa chiaro ma ci guadagniamo cento volte di più in termini economici in termini di felicità che finalmente stiamo imparando stiamo imparando di quanto importante anche per la nostra salute e in termini anche di di quello che possiamo lasciare a quelli che verranno che caspita cosa lasciamo quando ci guardiamo allo specchio cosa ci faccio qui cosa lascio qui vogliamo improvare anche a darci una risposta positiva essere soddisfatti a un certo punto i bilanci si vengono le somme vengono tirate i bilanci si fanno non solo quelli economici ma anche della nostra vita io voglio essere sereno che in qualsiasi momento possa dire beh io sono ben soddisfatto del bilancio della mia vita e che abbiamo ancora pochi minuti così mi viene un po riassumendo mi viene da dire che non è solo la bellezza che noi preserviamo che noi manteniamo ma è anche una bellezza che attraverso le azioni possiamo proprio creare da un campo di mais si è creato un bosco e si è creata si sono create tante bellezze perché c'è il sistema educativo c'è l'asilo c'è il signore che corre la signora che raccoglie i frutti degli alberi quindi tante bellezze ecco questo è una forma di potere incredibile che abbiamo in questo momento noi questo potere ce l'abbiamo giusto? Sì abbiamo esattamente come dici tu un potere di cambiare le cose anche lì è cambiato questo è molto diverso rispetto a qualche secolo fa ma anche solo qualche decennio fa dove tu non eri in grado di cambiare quello forse erano generazioni per diventare molto ricche quindi facevi grandi ma è uno su mille oggi noi cambiamo abbiamo capacità di incidere lo vediamo ogni volta se ci connettiamo con le persone le comunità stanno cambiando tutto ci sono piccole comunità di imprenditori abbiamo fa raccontato una puntata a melle dove dei ragazzi fanno hanno aperto un fanno un birrificio quell'altro si è messo a fare confetti una ragazza che lavorava lì si è messa a fare confetti un'altra prende il succo di betulla un altro fa il gelato al fieno è una comunità di piccoli imprenditori artigiani che sta fiorendo in un paese nell'alto cuneese da cui si andava via e dove vai a torino no il mito della grande città dove poi consumi tutto tra in attito eccetera non riesci neanche a vivere i tuoi bambini diventi pazzo portando in giro non sei insicuro eccetera perché non riscopriamo anche tutto questo mondo delle aree interne dove si sta bene ci va cosa ci faccio vai a vedere cosa si fanno tantissime cose perché non apri lo studio di tatuatori lì dentro magari in tutta la valle vengono da te è diverso l'approccio ma si vive bene quelle comunità sono in rete anche per l'alimentazione anche per la creazione di cibo sono imprenditori e cittadini insieme quindi artigiani che per esempio hanno pagano la coltivazione dei loro campi della loro agricoltura la prenotano quindi hanno l'agricoltura dedicata a loro è straordinario è già pagato il campo condividi insieme i rischi ma condividi insieme anche i benefici e vivi meglio in un paese piccolo dove non c'era più nessuno ha riaperto l'asilo e si vuol dire un bel modo per vivere ecco come noi la possibilità di incidere se vogliamo ce l'abbiamo tantissimo perché è importante che siamo qui oggi a raccontarlo che questa settimana della sostenibilità non sia solo una settimana all'anno ma che ci siano azioni interventi di questo tipo perché dobbiamo capire che noi quello che dicevi tu possiamo agire possiamo avere risultati possiamo abbiamo un potere straordinario di azione e di cambiamento quindi mentre finché ti dicevano è importante l'azione di tutti chiudete il rubinetto è un po' retorica cioè è vero però alla fine poi io lo chiudo quegli altri lo fanno andare e io cosa ho fatto sono cretino oggi invece noi siamo dentro ad azioni concrete ecco tutti i progetti di sostenibilità ecco le azioni ecco dove i bilanci di sostenibilità significa responsabilità che porta a impatti quindi ci sono gli impatti ci sono le scelte e sono quelle che facciamo noi ma queste scelte non sono solo a grandi a di grandi principi sono qualcosa di concreto che oggi impatta sulla nostra vita sul nostro benessere quindi c'è una forma di sano egoismo lo faccio per gli altri perché poi ritorna a me perché quello che fanno anche gli altri assieme a me prende un mondo in cui io vivo meglio quindi è un'azione è un cambiamento queste settimane questi momenti servono per aiutarci ascoltando quello che io vado in giro e l'italia imparo e far oltre a guardando i migliori e mi riempio gli occhi di cose belle perché la cosa che è straordinaria me l'ha insegnata una don antonio loffredo di napoli che ha cambiato il più pericoloso rione d'italia rione sanità in un luogo dove si genera bellezza grazie alla valorizzazione delle catacombe hanno 200 mila visitatori non si uccide più per lo spazio di droga ma si va a visitare le opere di Iago il più grande scultore del mondo e lui diceva sempre una cosa tutto quello che manca si può fare ed è giusto ed è anche bello secondo me chiudere no questa nostra pagina eh all'interno della settimana della sostenibilità con questa frase e tra l'altro io rimando al prossimo webinar che entrerà ancora di più nel cuore delle azioni concrete che possono fare anche le amministrazioni comunali no in collaborazione con queste grandi eh reti eh e e sistemi territori sostenibili andrà a raccontare i vari comuni del padovano che cosa stanno facendo e anche il livello di consapevolezza che hanno come si può mettere a terra nelle scelte di tutti i giorni e nei cambiamenti anche che chi abbiamo votato può eh può fare sul territorio per eh educare tutti quanti alla sostenibilità Emilio Casalini grazie per essere stato con noi questa pillola preziosa eh che consegniamo a chi ci ha seguito grazie e ovviamente buon lavoro per tutti i tuoi eh progetti grazie a voi per averci seguito al prossimo appuntamento con i webinar di con Fertigenato Imprese Padua.